Il calcio d'angolo si va a sinistra, che è fermato in questo momento, arriva il tiro e il gol, il gol sottoporta la deviazione da parte della numero 7, vale a dire Tagliaboschi, Marco Tagliaboschi, la Lositana dopo un solo minuto di gioco è in vantaggio in questa partita. Perché c'è ancora un tentativo d'attacco che però viene fermato dai giocatori del Pigneto Team che perdono ancora palla, attenzione alla Lositana sulla destra, arriva questa conclusione con la respinta del portiere, poi ancora si combatte al centro dell'aria, in mezzo Tagliaboschi può ricevere questo pallone che alla fine però gli viene strappiato tra i piedi, ancora la Lositana cerca di difendere il possesso della sfera, alla fine c'è un fallo. Parte adesso Tagliaboschi, è un tiro in porta ed è il 2-0, il 2-0 della Lositana, doppietta personale per il numero 7 Marco Tagliaboschi che in qualche modo conquistano la palla, poi la ripertono, Fernandez scarica ancora sulla destra, arriva questa conclusione ed il gol è 3-0 da parte di Enrico Agostinacchio, 3-0, 3-0 della Lositana, Brando sulla destra, Tagliaboschi, palla in mezzo e arriva il top in sottoporta della numero 5 Fernandez, 4-0 per la Lositana che non si ferma più, che però non è arrivato su questa palla, attenzione al contropiede da parte della Lositana con Di Vincenzo, Di Vincenzo conclusione ed è 5-0, 5-0 della Lositana che a questo punto dilaga. I giocatori arancioni stanno dominando in lungo e largo questa partita, attenzione all'Ossito, l'Ossito col destro, fa 6-0, partita senza storia fino adesso, primo tempo in cui sta dilagando letteralmente la Lositana. Padovani a centro campo, deve scaricare per un compagno, perde il possesso della sfera, poi arriva un fallo, arriva la seconda munizione della gara nel giro di un minuto e l'espulsione per Marco Padovani. Viene fatto ripartire adesso da Seminara che salta un avversario dopo aver vinto un rimpallo, palla sulla destra, attenzione col sinistro può concludere, vince un doppio rimpallo e alla fine la mette dentro, ha segnato Corsi, il gol segnato dalla Pigneto Tim, il primo di questa partita. Dopo l'uscita di Ricci, attenzione adesso ancora al pressing di Seminara con l'Ossita che ne esce, palla in aria, pescato Fernandez che poi scarica per un compagno che fa 7-1, arriva il 7-1. Il pressing è altissimo da parte dei giocatori di casa, attenzione al tiro di Losito, respita del portiere, ancora Losito, poi Fernandez, Losito ed arriva l'8-1, doppietta e 26esimo gol in campionato da parte del capitano, il più caparbio dei suoi. Attenzione a questo contropiede con Agostinacchio che lo può far ripartire sulla sinistra, Fonti, Fonti in mezzo ancora per Agostinacchio, anzi è un tiro, il portiere devia, ma non basta e arriva il 9-1 in contropiede con il gol di Fonti. Fonti che avanza, supera il centrocampo, scarica per un compagno, ancora la palla in mezzo, cercare la sala che però è stato anticipato, recupera il possesso, sempre la squadra di casa, mentre arriva il fischio finale dell'arbitro, la partita finisce qui, la Lositana batte 9-1 il Pigneto Team, ma in funzione della stessa e contemporanea vittoria della città di Ciampino, le distanze rimangono invariate e tutto è rimandato a settimana prossima al big match, proprio a Ciampino, tra città di Ciampino e Lositana, per la partita che vale un'intera stagione e la promozione in C2. Anche stasera grande concentrazione da parte del gruppo, non potevamo sbagliare, sempre con la nostra umiltà e la nostra voglia di far bene abbiamo ottenuto un risultato importante e andiamo a fare quest'ultima partita in grande serenità con la speranza di fare un ottimo risultato. La più forte è ancora presto, secondo me, manca ancora una partita, siamo stati equilibrati, abbiamo sofferto parecchie partite, forse il nostro temperamento, la nostra costanza ci ha fatto arrivare a dei risultati positivi. Anche questa al primo tempo 6-0, però a calcetto non finisce mai al primo tempo la partita, bisogna finirla anche il secondo, si rialzano le partite con un episodio.